Strade pericolose, c'è anche questa come conseguenza della mancata pulizia a fine giugno ormai dall'erbaccio in alcune zone della città. La prima segnalazione ci arriva oggi da Contrada Carcossea e lungo la curva sulla strada che porta a Raganella che un motociclista si è fatto male. Oltre il guardrail, un tempo oggi completamente quasi sulla strada, si trovano degli arbusti, le marruche piuttosto alte e prospicenti fino alla carreggiata, la cui caratteristica è quella di avere delle lunghe spine. Spine che sono diventate pericolose per il motociclista, è il caso di chi alla nostra redazione ha raccontato di averne prese un paio, dopo che per evitare un'automobile che a velocità invaso la corsia si è scansato prendendo in pieno le spine degli arbusti. Un episodio che rischiava di finire peggio e che sollecita una immediata pulizia dei bordi della strada da simili e pericolosi arbusti. Ci spostiamo in via dei Tonnaroti all'incrocio che separa Contrada Perrera dalla zona Lido, incrocio la cui visibilità è ormai impossibile dalle erbacce alte, oltre che a coprire la segnaletica stradale, impediscono a chi transita di verificare il sopraggiungere di automobili o mezzi in genere. Aiuole che andrebbero sistemate così come andrebbe fatta la pulizia dei marciapiedi dalle erbacce in tutto il quartiere. Chiudiamo passando da via Cappuccini dove dopo alcuni interventi del gestore idrico la strada presenta ancora una parte di scavi delimitata da segnaletica inibita al passaggio che è diventata nel frattempo un ricettacolo di rifiuti. Strada quella di via Cappuccini parecchio transitata dove gli scavi una volta aperti andrebbero definitivamente chiusi e sistemati senza che passino settimane o mesi.